Anna Laura Kristeck, 33 anni polacca, è deceduta questa mattina 21 maggio all'ospedale Cardarelli del Capoluogo dove era stata trasferita per le conseguenze gravissime della caduta ad un'altezza di 8 metri da un appartamento in pieno centro a Termoli. Intorno alle 7 di questa mattina 21 maggio il suo cuore ha cessato di battere con poca sorpresa da parte dei medici che non avevano mai sciolto la prognosi e che malgrado abbiano fatto di tutto per salvare la vita si erano dichiarati consapevoli delle condizioni critiche in cui la donna si trovava. Conseguenze gravissime dunque che non le hanno lasciato scampo, trauma e demorragia cranica, lesione agli organi interni e fratture su tutto il corpo. L'intervento chirurgico che si è svolto all'ospedale Cardarelli dove era stata trasferita agli indomani della tragedia non è bastato a evitarle il peggio. L'episodio risale lo scorso 13 maggio quando la giovane polacca che viveva in via Milano con un compagno e un bambino di 4 anni è precipitata di sotto per cause al vaglio degli inquirenti che stanno continuando a raccogliere elementi. Intanto la procura della Repubblica di Larino ha aperto un fascicolo di inchiesta e starebbe per disporre l'esame autoptico sul corpo della 33enne. Il compagno della donna per il momento non è indagato ma è stato ascoltato già una volta dagli inquirenti e presto potrebbe essere riascoltato per ulteriori delucidazioni.